Sì, non la prima addirittura. Ecco, vedete l'arimo attorno a Mauro Di Vincenzo e alle spalle, lo potete già vedere, un cartello che campeggia Gino sempre nei nostri cuori. Questa significativa manifestazione di simpatia dei tifosi bolognesi nei confronti di Gino Banks, secondo le voci dei più già praticamente in partenza dopo questo incontro che dovrebbe appunto decidere la sua sorte e chiaramente i tifosi sono presi anche con parte della stampa che ha indicato il possibile taglio del giocatore che vedete in primo piano in questo momento con il numero 20. Peraltro il fatto che già una settimana negli Stati Uniti Ticia Giancarlo Salti, general manager dell'arimo, raggiunto nelle prossime ore addirittura da Mauro Di Vincenzo sta a significare che la società ormai ha deciso che compatibilmente con quanto si troverà sul mercato americano c'è la possibilità appunto che Gino sia a quei per l'ultima partita. Noi gli auguriamo che possa giocare un match simile a quello che avemmo la fortuna di vedere a Reggio Emilia nelle prime giornate di campionato. Un giocatore straordinario in quell'occasione, autore di 32 punti e di una prestazione complessivamente eccezionale, con 14 rimbalzi, 4 palle recuperate e 7 assist. Se questo è lo score di un giocatore in odore d'Italia evidentemente qualcosa non quadra. Lo vedremo dunque mentre le squadre sono già sul due pari e guidate da Vittole Duranti, i principi dei fischietti della palacanestra italiana, le formazioni da Lele Garcia. Sono entrati in campi i seguenti quintetti per l'arimo, Gilmore, Zatti, Bucci, Albertazzi e Banks, per la Divarese, Ferragliuolo, Thompson, Vescovi, Pittman e Sacchetti. Nelle due panchine ci sono anche Neri, Pellacani, Dallamora, Masetti e Giorretti e Gilmore come sempre inizia alla grande, due su due per lui. Mentre per la Divarese altri giocatori e quindi una testimonianza della panchina estremamente lunga della Divarese, Boselli, Sorrentino, Tombolato, Caneva e Rusconi, una delle speranze del basket italiano. Lo schieramento è individuale nella marcatura della squadra di Joe Isaac. Joe Isaac, simpaticissimo personaggio, giocatore di grandissime qualità tecniche del basket di una ventina d'anni orsono. Intanto Giacomo Zatti va a realizzare da sotto. Vi dicevo la marcatura individuale così come lo è quello della Arimo in maglia bianca. Giorgio Bucci gioca su Vescovi, scusate, numero 11. Su Charles Pickman gioca Artis Gilmore che va a recuperare un rimbalza cominciato con due canestre consecutivi. Ecco Benz che dà una bella palla a Albertazzi che da distanza ravvicinata sbaglia una buona occasione. Nelle disgrazie dell'arimo di questa stagione vanno conteggiate una serie di infortuni a catena che hanno colto più di un giocatore e più di tutti Giorgio Bucci che per sette giornate è mancato. Bello questo pallone sotto per Pittman gliel'ha concesso Vescovi. 6 a 4 il punteggio. Adesso però i ranghi sono completi e naturalmente Mauro Di Vincenzo spera che nelle ultime due giornate del gioco d'andata vale a dire quello odierno. C'è un fallo per parte tra Charles Pittman e Artis Gilmore, lo ha fischiato Vittolo. Dicevo ultime due giornate questa odierna contro la Divarese domenica prossima nella difficilissima trasferta di Venezia contro l'Itaci. È evidente che l'arimo deve cercare di guadagnare qualcosa perduto lungo le prime 13 giornate. Dunque un fallo per parte a Pittman e a Gilmore, ha recuperato Gilmore, poi Banks è riuscito a deviare verso Zatti. Ecco la finta di Gino Banks, cerca di andare in entrata, un tiro sforzato e poi è Sacchetti. Romeo Sacchetti era dato come in forze ma mi pare che sia ben presente in campo. Adesso sbaglia una buona opportunità. Vediamo in sospensione Albertazzi, 0 su 2 per lui, ma poi Banks va a correggere recuperando. Indubbiamente Gino Banks con il suo carattere molto gioviale è riuscito a entrare immediatamente nelle simpatie, nel cuore della tifuseria bianconera che spererebbe per lui e anche per se stessa di poterlo vedere ancora giocare con la maglia della fortitudo. Terzo tentativo da Albertazzi, terzo errore, poi Zatti che cerca di recuperare la palla ma la stessa va a picchiare nella parte inferiore del tabellone. 0 su 3 per Albertazzi in questi due minuti di inizio della partita. In panchina si è Maggio Isaac, il direttore sportivo Marino Zanatto, un altro dei grandi giocatori di una ventina di anni Orsono. Ora direttore sportivo, bello il pallone, valido per Albertazzi che era stato servito sotto, difesa abbastanza allegre. 10 a 6 dopo 3 minuti e 10 secondi. Attacchi portati da Ferraiolo, vi dicevamo della Di Varese, assieme all'asse Milano Varese, assieme alla Virtus Bologna, quella che ha fatto davvero la storia della palacanestra italiana, lo ricorderete, la grande Inis di tanti trionfi nazionali e internazionali, con il giocatore che ha lasciato una traccia indelebile, Bob Morse, ma ci sono poi stati altri grandissimi campioni stranieri e italiani. Intanto Vescovi va a bersaglio, siamo 10 a 8 dopo 3 minuti e 40 secondi di gioco nel primo tempo. 4 punti Gilmore, 2 Zatti e 2 Albertazzi. Giorgio Vucci non ha ancora tentato la conclusione, è marcato da Pittman, sbaglia, c'è un fallo di Ferraiolo che ha spinto su Zatti e l'arbitro Duranti lo ha pescato, è la rimessa per i bolognesi, rimessa effettuata nella pausa natalizia, l'Arimo ha giocato un torneo in Israele, bello il pallone per Gilmore che sbaglia una facilissima opportunità, ha giocato questo torneo in Israele, ha perduto nettamente di una quarantina di punti contro il Maccabi, questo torneo è servito da rodaggio per la squadra israeliana per poi andare a vincere in Coppa Campioni di soli 4 punti contro la Scavolini, poi ha battuto l'Apoel di 20 punti. Si prepara Masetti, 10 pari, 2 occasioni perdute e mali in attacco dall'Arimo. Ecco Vucci al tiro, il primo tentativo, 3 punti per Vucci. Immediatamente al primo tentativo Vucci che è andato a bersaglio, 13 a 10 a favore dell'Arimo. Si prepara a entrare Masetti, ecco la palla per Corny Thompson marcato da Gino Banks. Ferraiolo è il playmaker, chiama lo schema, gira fuori, si porta alto Pitman, ecco Ferraiolo che non azzarda il tiro. Ecco Pitman, si vola bene sotto canestro e va a realizzare senza problemi sfuggendo alla guardia di Gilmore. Ed ecco ancora Albertazzi, il quarto tentativo va a bersaglio e siamo 15 a 12. Albertazzi dopo tre tentativi falliti non ha esitato ancora, 14.50 da giocare, sempre in difesa individuale. Bucci è su Sacchetti dentro la palla e c'è una deviazione di Thompson quando la palla è oltre. E se Albertazzi entra Masetti al quinto minuto e 20 secondi. Vai in panchino Albertazzi. Ecco Zatti, marcato da Ferraiolo. Bucci, ci sono degli interscambi nelle marcature, buono il pallone, Gilmore potrebbe tentare il gancio. Sivola bene, non buono, infrazione di passi, fischia Vitolo, sollevando le proteste dei tifosi. Sentiamo l'Ere Garcia. Il mio parere non era assolutamente infrazione di passi. Probabilmente Vitolo è stato ingannato dalle finte, dai movimenti di Gilmore, che per me aveva fatto un canestro validissimo. Sacchetti è corto il suo tiro, la palla Sivola a Pitman, la recupera Jim Banks. Ecco che va in attacco, è marcato da Ferraiolo, potrebbe tentare anche la soluzione. Poi da fuori Masetti, marcato da Sacchetti, su Bucci gioca Vescovi. Rallentato il gioco, 6 minuti e 10 giocati nel primo tempo. Masetti adesso deve trovare ancora. Zatti gioca e... C'è un fallo, mi pare, proprio di Zatti, che ha commesso un'ingenuità e sulla quale ha fatto seguire un clamoroso fallo in attacco. Ecco la rimessa di Sacchetti per Ferraiolo. Andiamo sempre 15-12. L'Arimo si difende dall'attacco di Thompson, che ha cominciato molto male. Un giocatore questo che riesce a giocare partite eccezionali, difficili da marcare. Così come alterna, c'è un'infrazione di Thompson proprio su Gino Banks. Dicevo, poi ha delle pause, magari anche nell'ambito della stessa partita. Corny Thompson dorme, sonni tranquilli per 10 minuti, poi si sveglia improvvisamente. Vorrei però aggiungere, Nando, fino adesso Thompson è stato marcato molto bene da Banks. È molto mobile, più mobile di lui e lo sta tenendo molto bene, soprattutto lo tiene fuori dal perimetro. E Thompson sappiamo che ha anche un buon tiro se ha dello spazio e soprattutto riesce a giocare molto bene da sotto. Banks fino adesso ha difeso molto bene su di lui. Ecco, infatti proprio Banks che è a contatto con Corny Thompson, che atleticamente lo sovrasta. E c'è un fallo in attacco di Vescovi in attacco. Ecco che Mauro Di Vincenzo chiede il primo time out dopo 6 minuti e 55 di gioco. Sul punteggio di 15-12 vediamo attorno a Joe Isaac tutta la divarese con numero 10 di spalle. Vedete Corny Thompson con numero 4, Ferraiolo, con numero 14 c'è Romeo Sacchetti. Ecco un primo piano per il tecnico della formazione varesina, che vedete non lesina i suggerimenti per i suoi giocatori. Simpaticissimo Joe Isaac, un uomo molto gradevole, molto simpatico proprio anche quando si è in compagnia, non si parla di solo basket. E qui c'è Mauro Di Vincenzo a fianco a lui, Sanghettoli il suo vice, primo piano per Giorgio Bucci. 15-12 entriamo nel settimo minuto di gioco. Una palla per Masetti, molto bello il suggerimento di Zatti per Masetti. 17-12. Attacco portato da Vescovi, non ci sono cambi nelle due squadre in primi e stessi sette minuti. Thompson ancora marcato da Banks. Su Pittman gioca Gilmore, ecco Pittman fuori per Ferraiolo da tre. Il tiro è sbagliato, sbagliatissimo, ma sotto non c'è stato il taglia fuori e Pittman è riuscito a bruciare Gilmore che si stava portando addirittura già in attacco. E il tiro sbagliatissimo di Ferraiolo ha permesso a Pittman di recuperare. Bello il gioco a due, tentativo di schiacciate. Qui Zatti ha commesso un'altra ingenuità perché poteva tentare la conclusione non rovesciata. Non lo ha fatto, tre contro due, Bucci da tre. Bucci da tre! E Giorgio Bucci porta a venti la sua squadra contro i 14 della Divarese. Due su due da tre per Bucci, alcune cifre da Lere Garcia. Ci sono quattro punti di Gilmore fino adesso con due su tre per lui. Due punti per Zatti. Sei punti per Bucci con due su due da tre. Quattro punti per Albertazzi, due su cinque. Due punti per Masetti, uno su uno. Due punti per Banks, uno su tre. La parte opposta per la Divarese ci sono due punti soli di Thompson. Sei di Vescovi, sei di Pittman. E basta. Quindi 14 punti in tutto per la Divarese. Come rimbalzi abbiamo montato la buona precisione delle due squadre fino adesso. Cinque rimbalzi per l'acqua totale e cinque rimbalzi anche per la Divarese. Con la Divarese che non ha preso nessun rimbalzo offensivo. C'è stato il secondo fallo di Masetti nel giro di 20 secondi. Realizza Vescovi il suo primo tiro. Si prepara a entrare Boselli, uno dei due gemelloni che per tanti anni hanno vestito la maglia di Milano. E' andato a bersaglio Vescovi con due su due. Questo è Dino Boselli, un metro e novanta, 31 anni, playmaker, guardia. Ecco Gilmore, il suo bel pallone per Bucci. Molto bene Gilmore. Sta giocando un ottimo inizio di partita, come ci ha già abituato in diverse occasioni. Ad Artis manca forse una continuità che gli è dovuta alle sue 39 primavere. Molto bravo Vescovi per Thompson, molto bravo. Sta giocando una buona partita Vescovi. 22 a 18, più 4 per Bologna che attacca la marcatura di Sacchetti su Masetti che ancora non ha avuto la possibilità di... Eccolo qua, che dà un bel pallone sotto per Bens, che tenta una conclusione avventurosa e realizza il suo quarto punto. 2 su 4 per lui. Più 6 per Bologna. Si avviamo alla metà del primo tempo. Pittman, la sua bella finta, va in penetrazione. È stato bloccato correttamente. e quindi adesso può ripartire Larimo, ancora con Bucci, che potrebbe dar fuori la palla. Lo fa per Masetti. Il suo tiro è sforzato, non era in perfetto equilibrio. Ha sbagliato Masetti a tirare in questo caso. Era completamente fuori posizione. 24 a 18 il punteggio. Anche Sacchetti. Forse c'è un doppio cambio. C'è un altro giocatore davanti alla panchina della Divarese che si prepara ad entrare. Sacchetti, ecco che Thompson si gira molto bene, però il suo tiro dopo aver rimbalzato sull'anello va perpendicolare e con molta fortuna va a bersaglio. Per Corny Thompson è il sesto punto. 3 su 4 al tiro. 24 a 20. Masetti da 3. Masetti ha già sbagliato nel giro di 30 secondi. Due tiri all'apparenza facili. E c'è lo sfondamento di Vescovi. E c'è il cambio. Ecco il cambio che vi dicevo. Vediamo chi saranno i giocatori che entrano. E se Ferraiolo ed entra Boselli. Ed entra col numero 15. Stefano Rusconi. Una delle più belle realtà della palacanestro italiana. 21 anni, 2 metri e 7 centimetri. Pivot. Se la vede con un giocatore che ha fatto la storia del basket dell'NBA. Vale a dire Artis Gilmore. Lo vedremo. Boselli dopo 18 secondi dal suo ingresso commette il primo fallo. Nel tentativo di marcare Giacomo Zatti siamo a 6 falli per la Divarese e 5 per l'Arimo. 9-24 da giocare più 4 per Bologna. Zatti cerca di liberarsi Gilmore dalla marcatura di Rusconi. Ecco Bucci va in entrata. Il fallo mi pare di Banks in attacco. E il fallo di Banks è un blocco di Banks. L'arbitro ha indicato chiaramente il secondo fallo di Banks. Si prepara intanto Pellacani che sta effettuando il riscaldamento. Mentre c'è un giocatore di Varese dovrebbe essere Caneva. Si prepara ad entrare così è infatti. Ecco Rusconi. Boselli si libera dal blocco. Sempre 24-20 il punteggio. Lungo palleggio di Boselli. Cerca Thompson di servire sotto. Sacchetti va al tiro da 2. Da questa posizione Romeo Sacchetti non sbaglia. Da più 6 a più 2 per Bologna. A 8-44 dalla fine. Molte occasioni sprecate. Gli ultimi due tentativi sono stati di Morris Masetti. E lo sfondamento di Gilmore. Fondamento di Gilmore e Vitolo non ha avuto esitazioni. In effetti Gilmore ci è molto aiutato. Va in panchina Banks a 8-36. Entra Nino Pelacani. Eccolo qua in primo piano col numero 10. Ed è entrato anche Caneva, Deusito, Vescovi. Riccardo Caneva. 27 anni, 2 metri e 5 centimetri. È marcato da Masetti. Sacchetti da 3, la finta. È anche un giocatore dotatissimo. Bravo Thompson, molto bravo. Questo è un canestro di forza. Ha giocato bene per recuperare una palla difficile. Siamo in parità. 6 a 0 per Varese. Dopo un momento nel quale Larimon sembrava potersi staccare. e Pelacani che gioca troppo lontano dal canestro. Pallone per Gilmore. Ecco il gancio di Gilmore. Bello il gancio. Bello il gancio e siamo a quota 6 per lui. 3 su 4 al tiro. Si prepara ancora Albertazzi. Gilmore da quella posizione non deve assolutamente cercare disgrazie. Rusconi ha tirato temendo l'intervento di Gilmore. E se Bucci ed entra Albertazzi. Bucci 8 punti, miglior marcatore della sua squadra. Non ha errori Bucci. 2 su 2 da 3 punti e 1 su 2 da sotto. Ecco Di Vincenzo, lo vedete, sul fondo che sta dando suggerimenti ai suoi. Bellissimo il palone di Zatti per Albertazzi. E Gilmore che va a schiacciare. E siamo a quota 8. 4 su 5 per lui. Certo Lele che se Gilmore si fa sentire così sotto le planche evidentemente per gli avversari sono dolori. Certamente. Lui ha questa positività estrema. Se riesce a ricevere in buone posizioni o recuperare come in questo caso è uno che ovviamente la butta dentro tutte le loro. Purtroppo anche lui difetta di continuità. Abbiamo detto più di una volta. Forse è dovuto anche a un fattore fisico. Spesse volte nel secondo tempo cala di tono. 7 minuti da giocare. 28 per Bologna. 26. Masetti da 3. Quindi 31 per Bologna. 26 per Di Varese. C'è il time out chiesto dalla Di Varese. Beh, dico che i tiri da 3 mi pare che L'Arimo si stia tenendo su. Perché ne ha 3 su 4 fino a questo momento. Ecco un primo piano della squadra bolognese. attorno a Di Vincenzo. C'è il tifo della Fossa dei Leoni. Che come sempre è molto caldo. E' il classico giocatore in più. E' quello che aveva invocato Mauro Di Vincenzo alla vigilia di questa partita. Come vi ho già detto è estremamente importante. perché L'Arimo ha una esigenza davvero vitale di fare punti in questa partita contro un avversario di rango che se è in classifica non è nella posizione preventivata alla vigilia della stagione certamente alla fine della stagione la Di Varese occuperà una posizione di rilievo del campionato. E' a zona L'Arimo. E' passata zona 6 a 46 dalla fine del primo tempo. A zona con 1-3-1. Ecco Boselli tenta anzi finta al tiro. Ci prova Pittman da sotto. Bello il rimbalzo di Pittman. Di Thompson scusate che è andato a recuperare e da sotto ha realizzato 31 a 28 per Thompson 10 punti con un ottimo 5 su 6 al tiro. 31 a 28 Bologna avanti di 3 punti e invece sempre in difesa individuale Varese la palla per Pelacani anche Albertazzi questo è un tiro sforzato è un rimbalzo Albertazzi poco preciso in questo primo tempo almeno fino a questo momento 5 a 48 pali in angolo tiro sbagliatissimo di Vescovi Masetti sotto per Albertazzi che tiene in campo una falla difficile poi Masetti va a cozzare contro due avversari si attribuisce del fallo Boselli bravo Albertazzi a tenere in campo un pallone molto molto difficile le percentuali globali al tiro D'Alele Garcia per la Divarese c'è il 66% di totale al tiro contro un 52 dell'Arim i rimbalzi sono 9 per parte e ovviamente si evidenzia la buona percentuale di Bucci che ha il 100% al tiro ma anche quella di Gilmore con 4 su 5 l'80% Thompson dall'altra parte 4 su 5 l'80% quindi in linea di massima possiamo dire che fino a questo momento vi è una buona precisione al tiro di tutti i componenti di tutti i giocatori in campo forse l'unico che difetta un pochettino è di Albertazzi che ha soltanto un 2 su 6 dalla lunga distanza fallo di sfondamento di Pellacani e siamo a 5.19 dalla conclusione della prima parte di gara più 3 per Bologna errori da una parte e dall'altra e chiaramente il nervosismo serpeggia nelle due squadre che per motivi diversi hanno assoluto la necessità di fare i due punti in questa partita Rusconi fino a questo momento ormai da 5 minuti in campo abbastanza in ombra tentativo d'entrata la palla che Gilmor va a recuperare poi per Masetti Albertazzi pesta la linea del tiro Albertazzi disastroso al tiro soltanto 1 su 7 recupera Caneva per Vescovi e riprende la manovra della formazione lombarda palla dentro ecco Rusconi sfondamento di Rusconi sfondamento di Rusconi non avevo dubbi 4 e 41 da giocare arbitraggio ineccepibile fino a questo momento di Vitolo e Duranti attacco di Zatti si prepara Jim Banks a rientrare Masetti la sua finta e fallo di Pellacani in attacco sul blocco e siamo a 4 e 30 dalla fine del primo tempo punteggio molto basso Gilmore autore di 8 punti 4 su 5 al tiro e rientra Jim Banks ormai da 4 minuti ferma quota 31 Larimo ci sono stati due tentativi da Albertazzi sempre a zona Larimo Boselli il tiro di Caneva a bersaglio Caneva due punti Vescovi chiedo scusa Vescovi non Caneva quindi 31 a 30 è stato Vescovi dall'angolo ci sono dei blackout troppo lunghi nella squadra di Di Vincenzo Pellacani da 2 va a bersaglio 33 a 30 Boselli c'è una marcatura cambio di marcatura sul portatore di palla c'è il press e poi si passa a zona Boselli ancora Vescovi Caneva Vescovi da 3 palla dentro palla perduta infrazione di piede di Vescovi e quindi rimessa per Larimo entra Bucci ed essa Masetti 5 punti per Masetti 2 su 4 al tiro 3 28 da giocare 33 a 30 ecco Banks fuori per Albertazzi Bucci ha perso la palla male Larimo però Bucci poi recupera dopo avere sbagliato ecco un bel pallone per Zatti che potrebbe tentare il tiro e ancora adesso un'altra palla persa male e va a commettere fallo Bucci che aveva recuperato bene la palla purtroppo Zatti poi l'ha perduta banalmente 2 58 33 a 30 errori in serie di qua e di là non è una bella partita 1 più 1 è in lunetta Vescovi notevoli problemi anche per Joaiz con questa squadra che pensavo facesse vedere qualcosa di meglio 0 su 2 di Vescovi recupera la palla Banks Pellacani per Zatti Bucci Pellacani finta addirittura il tiro da 3 lo potrebbe provare Bucci poi lo effetto invece da 2 e Bucci d'altra parte non può essere certo accusato di essere un mangia pallone fino a questo momento ha resatto 10 punti senza errori forse addirittura dovrebbe tentare qualcosa di più comunque 35 a 32 18 Thompson la finta di Caneva Rusconi sta per perdere la palla inflazione rimessa buona la difesa dell'Arimo e questo e questo Rusconi davvero fino a questo momento non ha fatto vedere quello che si dice di lui come speranza del basket e sesatti ed entra Giancarlo Giarletti con il numero 16 il ventenne Giarletti proveniente dalla B2 2 minuti e 9 secondi è uscito Rusconi è rientrato Petman assolutamente negativa la prova di Rusconi ancora Bucci prova l'entrata Bucci è lui il giocatore che fa la differenza non ci sono dubbi massimo vantaggio per Bologna 1.46 dalla fine del primo tempo Bucci a quota 12 senza avere sbagliato nulla molto bene la difesa bolognese da 3 Boselli sbagliato il fallo di Albertazzi Vittolo ha visto Albertazzi 1 più 1 per Varese è stata una lotta per catturare il rimbalzo e Albertazzi è stato colto in fallo vediamo chi sarà il giocatore che va in lunetta a effettuare i tiri non se n'era neppure accorto Corny Thompson è stato chiamato da Vittolo 1.31 da giocare 37 a 30 è andato a bersaglio Thompson con il suo undicesimo punto sono 12 punti per lui sono 5 quelli di vantaggio per Larimo un minuto e mezzo da giocare sempre uomo la divarese Bucci sul quale gioca Vescovi prova da due Giarletti e subisce fallo subisce fallo da Boselli due tiri dice Duranti che Giarletti pestava la riga il pubblico vuole i tre tiri c'è una protesta vibrata nei confronti del fischietto Livornese due liberi per Giarletti errore di Giarletti nel primo tentativo 1 minuto e 16 secondi a bersaglio da notare che a 1.16 dal termine del primo tempo Larimo è andata per la prima volta in lunetta in questa occasione 38 a 32 un minuto esatto alla fine del primo tempo Thompson suo tentativo sbagliato Banks può andare adesso a giocare ma non l'ultima azione del primo tempo Larimo 45 secondi Bucci si porta fuori Pellacani si fa rubare male la palla bravo Banks nel recuperarla Bucci da 3 questo è il giocatore davvero straordinario 36 anni mai nulla concesso alla platea solo concretezza e sono 15 punti senza errori 41 a 32 è stato Giorgio Bucci che dopo 5 minuti di permanenza in panchina ha dato il break alla sua squadra 41 a 32 bravo Giarletti a recuperare la palla la serve per Bucci che va a realizzare molto bravo Giarletti 43 a 32 e il break avviene nell'ultimo minuto Isaac in piedi c'è il time out 6 secondi ancora da giocare le cifre da Lele Garcia per l'arimo 43 punti dei quali 8 realizzati da Gilmore con 4 su 5 2 da Zatti con 1 su 3 17 da Bucci con 7 su 7 di cui 3 su 3 dalla lunga distanza 2 punti per Pellacani 1 su 1 per lui 4 punti per Albertazzi 2 su 8 5 punti di Masetti 2 su 4 1 punto per Giarletti 1 su 2 dalla lunetta e 4 punti per Banks 2 su 4 32 punti per la Divarese 2 punti per Boselli 12 punti per Thompson 10 punti per Vescovi 6 punti per Pittman 2 punti per Sacchetti come si può vedere nelle file della Divarese praticamente 3 giocatori hanno lasciato il segno in questo primo tempo veramente giocato non certamente bene dalla squadra Varesina e cioè Thompson Vescovi e Pittman anche loro però non certo con continuità Sacchetti solo 2 punti come del resto Boselli 0 punti per Rusconi 0 punti per Caneva 0 punti per Ferragliuolo 4 secondi per andare al tiro per perdere la palla e l'ha perduta approva addirittura Gilmore dalla linea dell'area dell'Arimo 43 a 32 Giorgio Bucci 17 punti il migliore in assoluto in campo senza errori ci risentiamo tra qualche minuto per la ripresa 2 sacchetti per l'Arimo 8 punti di Dio 9 2 detatti 2 detatti del incontro Arimo di Varese Nando Machiavelli e Lele Garzia vi forniscono le cifre globali del primo tempo di questo incontro terminato sul 43 a 32 per la squadra di Bologna naturalmente come abbiamo già ricordato in chiusura del primo tempo viene evidenziato nelle file del Arimo il 7 su 7 di Giorgio Bucci quindi un 100% veramente notevole per un totale di 17 punti perché di questi 7 tentativi 3 sono stati fatti dalla lunga distanza e sono proprio i canesti dalla lunga distanza che fanno la differenza tra le due squadre in quanto nel tiro da 2 c'è una maggiore percentuale una maggiore precisione la di Varese con il 66% contro il 55 dell'Arimo mentre nel tiro da 3 0 su 4 per la di Varese 4 su 5 per l'Arimo ed ecco quindi spiegata la differenza di questi 11 punti difatti anche per quanto riguarda i rimbalzi ci sono 13 rimbalzi totali per l'Arimo 14 per la di Varese come sempre Gilmore apre come spesso accade il primo canestro del primo tempo o della ripresa e anche questa volta è andato a segno il decimo punto per lui e ormai è una costante questa bravissimo Bucci assist per Banks e siamo a più 15 per Bologna 47 a 32 credo che mai la di Varese si sia espressa così basso livello merito certamente della buona difesa di Bologna ma anche merito della insipienza di più di un giocatore in maglia Ble ecco Thompson tenta da lontano e va a bersaglio è lui che tiene e cerca perlomeno di tenere in piedi la barca con la sua immensa classe Giarletti che sostituisse in apertura di ripresa il playmaker Zatti ha recuperato alla fine del primo tempo un palone prezioso Giancarlo Giarletti poi lo ha servito magnificamente a Bucci Albertazzi Banks da 2 va a bersaglio Banks bello il suo tiro con palla che roteava in aria carica d'effetto ed è andata a bersaglio sempre più 15 pensate che al sedicesimo del primo tempo Larimo era più 3 evidentemente è successo tutto proprio in questa fase finale e adesso come vi dicevo Connie Thompson è nella fase di grande risveglio è lui che prende rimbalzi si assume responsabilità adesso ha catturato un rimbalzo vagante è andato a bersaglio sono 4 i suoi punti nella ripresa c'è l'anticipo di Pittman su Gilmore con fallo però quindi rimessa Bologna dopo 2 minuti di gioco nella ripresa più 13 per Bologna Sarletti in angolo con la difesa Lombarda schierata è Albertanzi che si è portato fuori ancora Bucci la sua finta può andare nel tiro da 2 molto poi recupera il rimbalzo tenta la conclusione da sotto questa volta non aveva lo spazio contro piede e Sacchetti va a realizzare 4 contro 1 era impossibile che Varese sbagliasse 49-38 4-0 per Varese quindi il primo errore di Giorgio Bucci in apertura di ripresa ancora Albertanzi bello il palone per Banks da sotto sbagliato bravo Albertanzi nel recupero ancora Banks e sotto i rimbalzi d'attacco si è fatta sentire Larimo e soprattutto Banks che lotta con i suoi 10 punti e a 5 su 8 al tiro Banks Sacchetti Pittman bravo il rimbalzo e il recupero di Albertanzi palla schiacciata per Bucci è buono l'intervento di Pittman l'arbitro Vittolo era a mezzo centimetro e ha detto che andava tutto bene e vi si viene puniti da ferraiolo da 3 vedete cos'è il basket sentiamo Lele Garcia ma secondo me questo canestro era da convalidare forse la palla era già in palabra discendente l'arbitro in particolare mi sembra sia stato Duranti in questa occasione ha ritenuto vai dalla stoppata perché certamente il pallone non aveva ancora toccato ferro il tabellone bravo giarletti terzo punto per lui c'è un attimo di sosta vedete che Vittolo indica ferraiolo di portarsi fuori dal campo perché voleva medicarsi al labbro bravissimo giarletti che come già in altre occasioni ci ha fatto vedere di non avere certo problemi ormai è già un metà campionato di A1 e quindi il ragazzo non ha più alcun timore reverenziale e si assume anche responsabilità importante più 12 per Bologna ecco giarletti che vuole dare la mano a Ferraiolo Ferraiolo gli rifiuta la stretta di mano e Di Vincenzo se la prende con il suo giocatore dicendogli di andare in difesa Ferraiolo non ha voluto sentire ragioni Pittman un disastro e in questo avvio di ripresa si è fatto bruciare due volte buono il canestro di Pittman 53 42 3 minuti e 30 giocati nella ripresa ecco giarletti che si libera della marcatura di Ferraiolo affidando a Bucci c'è la marcatura sempre individuale di Varese Bucci aspetta un compagno per servire palla c'è un Thompson bellissimo il palone per Banks che va in entrata non è buono il canestro il fallo vediamo di chi il fallo di Vescovi comunque è un Banks che vedete in primo piano con il numero 20 molto dinamico molto voglioso è chiaro che l'aria che sentere attorno lo sollecita a un impegno Massimo e se Vescovi entra Rusconi chiamo in panchina Vescovi Isaac ancora giarletti mentre si prepara Zatti è a zona la di Varese ha cambiato marcatura 3-2 ecco Bucci in angolo e adesso vediamo se i tiratori bolognesi saranno in grado di aprire questo varco subisse fallo bravo giarletti una bella iniziativa ha subito fallo Thompson secondo fallo ed è tornato in panchina Zatti evidentemente era giarletti l'uomo in odore di essere sostituito giarletti al suo quarto punto più 12 per Bologna ancora giarletti al tiro e a bersaglio molto tranquillo il ragazzo più 13 per Bologna il raiolo cerca di servire Pittman bello il raddoppio di marcatura su Pittman sacchetti da 3 ha sbagliato e ancora giarletti è certamente un protagonista in questa parte di gara il giocatore bello il palone per Albertazzi che potrebbe tirare tranquillo e lo fa e questo giarletti sta giocando un'ottima partita più 15 ancora siamo al quinto della ripresa Joe Isaac è sconsolato sulla panchina palla persa malamente contropiede palla per Albertazzi che si ferma giustamente poi da palone a Ben fuori per giarletti Albertazzi in entrata fuori ancora finta di Bucci Albertazzi da 2 no non tira ebbè è meglio è corto è corto è corto è corto in questo caso il ragazzo ha sbagliato ha esagerato in presunzione Ferraiolo da 3 è Ferraiolo non perdone è un giocatore al quale non bisogna c'è anche un incidente involontario si scontra con l'albi di Ferraiolo un primo tempo assolutamente insignificante di Ferraiolo adesso ha due bombe nella ripresa 57 a 44 sesto minuto si prepara a entrare Masetti Ferraiolo da 3 molto bene Banks un bel rimbalzo di Jim Banks la sua finta fuori per giarletti ancora Albertazzi da 2 e beh anche Albertazzi anche se aveva cominciato male nel primo tempo se gli si dà un metro di spazio più 15 per Bologna difesa individuale Sacchetti Pittman a bersaglio Pittman la palla ha danzato sull'anello poi è entrata libertazzi fuori riprende la manovra con Gerletti e a zona la di Varese 3-2 lo schieramento difensivo dei Lombardi bella la palla di Bucci per Banks che va sotto misura recupera Gilmore e c'è il fallo di Ferraiolo su Gilmore Ferraiolo arrivava alla cintura a Gilmore e ha commesso fallo applausi scorsianti per Gerletti che va in panchina sentite l'applauso del pubblico bolognese per il ragazzo che lo vedete in primo piano merita questo segnale di simpatia dei tifosi 59-46 più 13 così come sono 13 minuti da giocare sentiamo Lere Garzia ma in questo momento adesso Larimo deve riuscire a controllare meglio il gioco anche il cambio di Giarletti con Zatti probabilmente vuole da parte di Di Vincenzo cercare di calmare un pochettino la velocità come in questo caso invece sta evidenziandosi da parte della di Varese e soprattutto dovrà stare attenta ai tiri da tre la di Varese è specialista in questi tentativi di recupero dalla lunga distanza sia con Ferraiuolo che con Sacchetti e poi con il contropiede c'è il canesto di Pittman in contropiede con tiro libero supplementare e da più 15 adesso siamo a più 11 con possibilità per Varese di no di non andare a 10 perché l'errore di Pittman è notevole e adesso Vittola si segnala per fiscalità fa ripetere il tiro libero per anticipato ingresso in campo e se Albertazzi è dentro Masetti Albertazzi 2 su 4 nella ripresa mancano i punti di Bucci nel secondo tempo va a bersaglio Pittman ecco il pressing di Ferraiolo più 10 per Bologna 10 punti per lui 59 49 Divarese 10 punti in risoluzione per la squadra di 12 minuti e 27 secondi al terreno Bucci in angolo la zona la zona della Divarese Masetti difficoltà per i bolognesi di portarsi in posizione favorevole di tiro un'occasione perduta ma alentai ma e subito Di Vincenzo corre ai ripari Larimo ha lasciato scorrere i 30 secondi senza riuscire ad andare al tiro ecco il coach che raccoglie vicino a sé i giocatori che hanno adesso il compito di mantenere i nervi saldi 10 punti sono un buon margine quando mancano 8 minuti alla fine dell'incontro però chiaramente non bisogna perdere opportunità come quella che abbiamo testavisto ecco la camera che si sposta sulla Divarese che ha già recepito i suggerimenti di Isaac un Isaac particolarmente sconsolato in chiusura del primo tempo in apertura di ripresa la rimessa è per Varese l'ha effetto a Ferraiolo sono in campo Ferraiolo Sacchetti Pittman Rusconi e Thompson opposti a Zatti Bucci Masetti Gilmore e Banks 12 minuti da giocare più 10 per Bologna a Zona Bologna 2-3 i due piccoli avanti Bucci esatti Rusconi a bersaglio è la prima azione degna di rilievo del giovane pivot Varesino e siamo a meno 8 ha recuperato 7 punti Varese vediamo se ancora con la zona riesce a tenere molto bene il pallone recuperato da Thompson adesso va in contropiede Ferraiolo in velocità molto bravo Ferraiolo molto molto bravo ottimo il secondo tempo di Ferraiolo 0 punti nel primo 8 nella ripresa per lui e siamo a meno 6 per Varese non c'è più il tiro dalla distanza per Bologna dobbiamo cercare qualche Varco deviazione di Rusconi su Gilmore sono ancora 11 secondi per andare al tiro Masetti prova Zatti fuori per Bucci da 3 è il ventesimo punto di Bucci che aveva che aveva 0 su 3 nel primo tempo Ferraiolo non perdona non perdona 4 a 5 5 siamo a metà della ripresa dunque 9 punti di vantaggio Bucci ancora da 3 sentiamo 6 6 6 7 a 5 siamo entrati negli ultimi 10 minuti della partita Gilmore potrebbe tentare il gancio no è lontano e la palla gli è rubata però Rusconi non riesce a tenere Gilmore come già ormai da 4 mesi ci ha abituato parte sempre benissimo nelle frazioni di partita primo tempo e secondo tempo e poi si adagia un po' la palla è deviata da un ginocchio di un giocatore ci sono ancora 5 secondi 5 secondi per andare al tiro adesso vediamo cosa succede Selarimo perderà anche questa opportunità 5 secondi per andare al tiro altrimenti c'è una lotta per trovare la posizione Zatti da 2 ha sbagliato ed è Sacchetti che recupera contropiede proposto da Ferraiolo Rusconi Pitman Rusconi deposita la palla per Rusconi siamo 3 su 3 negli ultimi 2 minuti e mezzo 6-7 a 5-9 ma di Varese non si dà per vinta aveva meno 15 in apertura di ripresa buono il canestro di Gilmore molto bello il movimento di Gilmore ha fatto ha fatto un bel lavoro sul piede perno e poi ha schiacciato di sinistro il suo tiro abituale è mancino puro Artis Gilmore è a quota 12 8-45 da giocare più 10 per Bologna è il tiro libero che Gilmore sbaglia molto bene Banks va a schiacciare Jim Banks e questo può essere un segno per il giocatore io glielo auguro di tutto cuore perché è un ragazzo di grande generosità ha avuto questo problema fisico che si è trascinato fin dal giorno del suo arrivo che probabilmente lo ha condizionato anche tecnicamente non si può essere un asso nell'NBA bravissimo Thompson in questo recupero in mezzo a 4 avversari dicevo non si può essere un asso nell'NBA e poi impresamente diventare un brocco va in panchina Gilmore entra Pellagani è uscito Sacchetti è entrato Boselli Vescovi Boselli Pittman Thompson e Rusconi è la zona dell'Arimo che cerca di impedire ai tiratori di avere un metro in questo caso la zona fa acqua e Vescovi la punisce nessuno è uscito dalla zona per andare a chiudere e ancora a 7.50 più 9 per Bologna 7.1 a 6.2 ha perso la palla male Banks in questo caso e c'è il contropiede è recuperato però deviando in out e quindi rimessa di Vescovi 7.31 errore clamoroso di Vescovi possibilità di contropiede e Bucci che si fa bravissimo e vorrei che Lucio Dalla che è qui al mio fianco e vedo applaudire convinto questo Giorgio Bucci è un po' un mago del parquet come tu lo sei del palcoscenico è straordinario sta facendo una partita straordinaria veramente questo canestro è di grande intelligenza e grande fisicità ecco che Giorgio Bucci va a quota 25 mancano ancora 7 minuti e 17 ed è rimasto anche molti momenti in panchina questo a conferma del straordinario carattere del giocatore Pittman dentro per Rusconi e Rusconi ecco che si lamenta di Vincenzo perché Rusconi è stato permesso di restare sotto il canestro indisturbato e poi Pellacani ha commesso fallo 7.3 a 6.4 c'è ancora la giunta del tiro libero va in panchina Banks entra Gilmore Banks 12 punti per lui 12 per Gilmore 25 per Bucci sono largamente i migliori marcatori dell'arimo 7 minuti Rusconi sbaglia Pittman recupera bravo Masetti però Pittman aveva recuperato il pallone sul tiro sbagliato di Rusconi ma Masetti comunque è riuscito a impossessarsi della palla Pellacani fuori per Zatti e a zona la di Varese 2-1-2 il tipo di marcatura difensiva dei Lombardi Bucci c'è 10 secondi per andare al tiro Masetti da 3 peccato è stato sfortunato e c'è il contropiede contropiede Boselli comunque attende troppo Vescovi da 3 a Bersaglio e siamo a più 6 7-3 a 6-7 eravamo stati a più 6 anche al ottavo della ripresa adesso siamo al quattordicesimo non bisogna fallire più la zona molto mobile Masetti da 3 sono 3 punti per Masetti questi sono 3 punti Lele che mi sento di dire valgono il doppio senza dubbio d'altra parte il Varese sta cercando di premere il più possibile di aggredire e negli angoli è già un paio di volte prima con Albertazzi e ora con Masetti che si trova sguarnita e quindi bisogna avere la precisione però bisogna anche cercare di contrastare i loro tentativi da 3 c'è un errore un errore con lotta sotto le planche tra Pittman e Pellacani senza esclusione di colpi e c'è il cambio entra Daniel Albertazzi va in panchina Giorgio Bucci 25 punti per lui 7-6 a 6-7 più 9 10 su 13 per Bucci e 5 su 5 da 3 in questi 10 su 13 è uno score da fuori classe quale Giorgio è Pellacani tenta l'entrata e subisce fallo vediamo da chi vediamo da chi dovrebbe essere Pittman autore del fallo è effetto è così Pellacani in lunetta per 2 liberi 5-25 da giocare più 9 ha avuto un massimo di 15 punti la squadra di Bologna in questo momento ne ha 10 quindi ha sempre gestito bene il suo vantaggio bene Pellacani nel tiro libero un quarto punto per lui ecco la zona dell'arimo che si porta molto in avanti Boselli tentativo di Rusconi recupero di Pellacani recupero di Pellacani dovrebbe controllare il gioco l'arimo non c'è bisogno di aumentare giustamente Masetti finta il tiro giustamente poi prova da 2 e trova anzi 2 punti da 3 da 3 da 3 non da 2 quindi meglio così e siamo nuovamente a più 14 i canestri da 3 credo che abbiano deciso questo incontro fallo di Albertazzi su Thompson fallo di Albertazzi laterale dice l'arbitro time out chiesto da Joe Isaac ecco qua Isaac sconsolato lo vedete in piedi in coach le mani sui fianchi 4,41 più 14 è una buona dote sentiamo Lele Garzia hai detto bene prima per quanto riguarda il fatto che il vantaggio dell'arimo fino a questo momento un vantaggio abbastanza consistente di 14 punti sia stato determinato dalla buona percentuale nel tiro da 3 proprio perché l'arimo ha un buon 7 su 11 poi certamente oltre al qua 5 su 5 di Bucci c'è anche una buona percentuale di Masetti nei tentativi da 3 quindi un 7 su 11 mentre dalla parte opposta ci sono soltanto 4 tentativi realizzati da parte di Ferraiolo e Vescovi ma anche molti molti errori ecco proprio Vescovi che cerca il serie Thompson la sua finta nel tiro da 3 Pittman Ferraiolo ma questo è il tiro da 2 bravissimo Pellacani ha fatto già una bellissima cosa nel deviare il tiro di Sacchetti che era molto libero 4 e 19 più 14 si deve semplicemente gestire la palla senza aumentare il ritmo andare al tentativo verso il 25esimo secondo non perdere palloni banalmente per fortuna Gilmore e l'esto la finta e il fallo e il fallo di Vescovi 4 minuti da giocare laterale laterale per Albertazzi buono il pallone per Gilmore che sicuramente tornerà a dar palla fuori Masetti tiene bene la palla e ce l'ha rimessa ancora per Bologna sono gli ultimi 4 minuti di gioco più 14 per Bologna che va in lunetta con Morris Masetti ha giocato una buona partita si è dato da fare avversario Masetti 14esimo punto 5 nel primo tempo ha sbagliato il secondo tiro siamo sempre a più 15 che è il massimo vantaggio della squadra di Bologna per Aiolo la finta da 3 poi da fuori Vescovi da 3 sbagliato recupero tra Pittman e Thompson che sotto canestra non ha davvero avversari con la sua stazza muove grandi masse si prepara ancora Bucci anticipo di Pittman rientrano Bucci e Banks vediamo chi saranno i giocatori a andare in panchina Pellacani e Albertatti 3-20 da giocare più 13 Bucci marcato da Sacchetti che lo sovrasta di qualche centimetro c'è il raddoppio proposto da Ferraiolo Bucci in palleggio buono per Banks Masetti la finta da 2 Masetti molto bene molto bene Masetti che ha bruciato il canestro autore di 11 punti nella ripresa Morris Masetti e siamo ancora a più 15 a 2.40 dalla fine dell'incontro dunque ci avviamo a un finale con Bologna in vantaggio nettissimo una partita sofferta una partita che Larimo doveva vincere lo ha fatto dopo 15 minuti sofferti nel primo tempo Thompson da 3 guardate che giocatore che è Cornit Thompson è terrificante perché sa giocare sotto le planze prende i rimbalzi sa giocare vicino alla zona dei 3 punti e quando è necessario e non è un caso realizza anche canestri come quello di qualche secondo fa 8.4 a 7.2 2 minuti e 15 domenica dunque si va a Venezia per la trasferta che Larimo affronterà col morale decisamente migliore Esatti realizza coassistenza di Bucci 8.6 a 7.2 sono gli ultimi 120 secondi entrata di Sacchetti stoppato e poi Pittman da sotto realizza time out chiesto da Di Vincenzo sentiamo le cifre da Lele Garcia allora per Larimo ci sono 86 punti 12 punti di Gilmore con un solo errore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti